No, secondo me non abbiamo fatto una bella gara, sono autocritico perché siamo arrivati troppo stanchi poi al di là il campo era anche, abbiamo perso Ferrara per un affaticamento poi c'avevamo anche Cipolletta con i crampi, siamo arrivati molto stanchi reduci anche da quello che forse è stata anche la partita scorsa che abbiamo giocato in un campo molto brutto però al di là di questo è stata forse la prima partita dove abbiamo anche perso dei duelli fisici non era mai capitato però c'è un'altra partita mercoledì, dobbiamo ricaricare subito le batterie dobbiamo recuperare tanto perché anche Rosso alla fine, Sepe abbiamo avuto tanti giocatori che avevano questi problemi qua in settimana avevamo avuto anche Dario Maltese, non in perfette condizioni però ripeto, è una battita d'arresto la dobbiamo prendere così, sappiamo che questo campionato è molto equilibrato non ne dobbiamo fare una sentenza e dobbiamo andare avanti per il nostro percorso e anche oggi i risultati sono un po' particolari per tutti quanti e sappiamo che è un campo ostico, sapevamo che era una squadra attrezzata secondo me si è giocato su duelli fisici e loro ne sono venuti meno perché non ricordo tante azioni da gol a livello globale di questa gara secondo me è stata una gara molto equilibrata che poi è stata sbloccata magari per un particolare poi è chiaro noi dove volevamo reagire per cercare di andare a prendere questo risultato e non ci siamo riusciti dispiace però dobbiamo essere equilibrati come sempre diciamo ci aspetto un'altra gara difficile mercoledì oggi è già giovedì calcistico secondo me siamo stati anche rinunciatari magari a giocare potevamo giocare di più sono tutte osservazioni autocritiche che ci facciamo pronti a riscattarci quanto prima però ripeto non ne facciamo un dispiace perché volevamo uscire da questo stadio con un risultato positivo non ci siamo riusciti però nulla da rimproverare ai ragazzi e cerchiamo di recuperare le energie per questa sfida di mercoledì dobbiamo preservarli Ferrara mi ha chiesto lui la sostituzione Cipolletta mi ha chiesto lui la sostituzione forse intelligentemente si sono fermati in tempo per non rincorrere poi a quello che poteva essere un danno nell'infortunio e quindi sappiamo quanto generoso sia Ferrara sappiamo quanto generoso sia Ciro per chiedere la sostituzione significa che non ne avevano più e si poteva rischiare di farsi male e non ce lo possiamo permettere al di là di questo ripeto degli elementi non è stata una bella gara siamo consapevoli di questo abbiamo fatto sempre meglio per la prima volta come ho detto prima si è perso qualche duello anche fisico però non ne facciamo un dramma e mercoledì c'è un'altra gara il valore di Pinto non lo scopro io sanno tutti che è un giocatore importante abbiamo anche preparato la partita in una certa maniera sappiamo il valore degli avversari come Palermo sapevamo il valore degli avversari però anche noi abbiamo valore e secondo me ci temevano anche loro ripeto non è stata una partita tra virgolette bella da vedere sotto il piano del gioco da ambo le parti però l'hanno fatta poi i particolari e non siamo riusciti a pareggiare è capitata l'occasione con Di Palma appena avuto gol magari la pareggi là la partita come risultato si incalana magari in una maniera diversa perché sia noi che loro forse il terreno di gioco abbiamo rinunciato proprio a quello che è il giocare e ci siamo affidati sulle seconde palle lì magari sono stati più bravi loro però ripeto adesso a me interessa archiviata questa interessa recuperare vedere e cercare di recuperare quanti giocatori più possibili a livello proprio di a livello fisico quello mi interessa più di tutti ripeto il ramarico c'è dispiace perché per non continuare la striscia positiva dei risultati però dobbiamo voltare pagina dobbiamo mettere un punto e dobbiamo andare avanti come abbiamo fatto le altre volte sappiamo che è un campionato particolare lungo difficile dove puoi vincere con tutti e perdere con tutti e questo l'abbiamo detto anche quando ci sono state le vittorie sono incomiabili perché ci seguono riconoscono anche loro che stiamo facendo un grandissimo lavoro sono il nostro dodicesimo uomo in campo è come se oggi potevamo dire che come se abbiamo giocato in casa dispiace tantissimo soprattutto per loro perché volevamo regalare un altro risultato positivo insieme stiamo facendo un grande percorso e quindi non è una una sconfetta che ci deve buttare giù su quello che di buono abbiamo fatto è chiaro che lavoreremo in questi due giorni su quello che sono stati gli errori perché di errori quando le partite vanno in una certa maniera ci sono anche state cerchiamo di lavorare di recuperare energie e di cercare di riscattarci quanto prima in tre giorni sappiamo quanto è difficile all'avversario che andremo ad incontrare sappiamo quanto è particolare questa gara per tutti che andremo a